Fioi 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 Per prima cosa Qualcuno di voi avrà già pensato a non fare così Come al solito mi sbaglierò Pertanto Non chiamiamolo youtubers Chiamiamolo momento di esprimere il massimo della gratitudine Agli youtubers A cui è piaciuta questa ragazza Che ovviamente la maggior parte di voi Mi ha suggerito di dar via a un giovedì sera Spendere soldi Come questa ragazza Si è iscritta soltanto perché ha apprezzato me stesso Recentemente mi è stato affidato il compito di fare delle sensazioni strane In maniera anche abbastanza delirante Che poi verranno riassunte e corterrimizzate dal sottoscritto Però io non ho niente da offrirvi Soltanto una dedica Il mi piace è obbligatorio Obbligatorio Assolutamente no Grazie per essere rimasti in silenzio